e fra poco vi presentiamo stiamo per presentarvi un ospite di grande eccellenza lei è una cantante lirica di fama internazionale mezzo soprano ha cantato come solista in europa e stati uniti dal vaticano a new york al principato di monaco e ancora a londra oxford cambridge e ancora al teatro filarmonico di venezia esperta di voci femminili che segue in tutta italia è considerata dalla stampa nazionale uno dei migliori preparatori vocali italiani nella lirica ma anche nel pop nel jazz e nel musical insomma davvero ha tanto da dirci da raccontare il buongiorno alla nostra ospite elena bresciani elena buongiorno bentrovata e complimentissimi per quanto talento hai da raccontare bentrovata come stai bene grazie buongiorno a te buongiorno a tutti i telespettatori è un piacere dirti qui con noi io ti ho presentata no ricordando al nostro pubblico e raccontando di quanto di quanti palcoscenici importanti hai avuto la possibilità di calcare di quanto da quanto pubblico sei stata applaudita e apprezzata ma io direi di partire con te da quest'ultima esperienza partiamo quindi da sanremo perché proprio durante questa 73esima edizione del festival sanremese hai lavorato dietro le quinte con i giovani cantanti solisti con tutti coloro che in realtà avevano l'esigenza di dover collaborare con te di avere i tuoi suggerimenti come è stata questa settimana sanremese sicuramente intensa assolutamente intensa è stato un vero tourbillon devo dire io ho fatto il mio primo sanremo alla mia ormai venerante età e non mi potevo immaginare che fosse un'esperienza così totalizzante veramente è stata una grande ripartenza dopo questa pandemia è un buon segno credo per tutto il sistema musica eh beh credo proprio di sì tra l'altro ecco ricordiamo che anche a sanremo ci sono state le tue masterclass di improvvisazione vocale e tecnica e lì proprio avuto tanto riscontro ma che cosa succede durante queste masterclass che il rapporto ecco si instaura tra il cantante e il mentore vocale sicuramente ci sarà tanta paura no perché poi confrontarsi con te allora in realtà no spero di no allora in realtà si crea una grandissima empatia e è veramente molto bello lo scambio anche umano che si crea durante sia le singole lezioni di canto sia le masterclass scollettive e devo dirti che per me è stata un'esperienza bellissima mi piace lavorare con i giovani artisti e in generale mi piace lavorare su più generi vocali perché è estremamente stimolante anche proprio per me come occasione di ulteriore crescita artistica anche quindi io dico sempre che è dal dialogo fra artisti che l'arte continua e prosegue verso il futuro e quindi è stato bellissimo io mi sono presentata in palcoscenico scalza dicendo questa è casa mia ma è anche casa vostra e quindi qui dobbiamo sentirci nudi davanti alle persone che ci guardano ed entrare in contatto diretto subito con tutti con grandissima semplicità ci vuole coraggio però sì ci vuole coraggio infatti oltre la paura dico sempre c'è il coraggio ed è un'arma fondamentale per l'artista che si affaccia ad una carriera professionale io ero molto timida e quindi per me non è stato scontato nulla e penso che in questo posso davvero essere un buon mentore perché conosco le fatiche le difficoltà anche proprio umane emotive che ci sono dietro a tutto questo lavoro perché le ho vissute tutte e tutte in prima persona e non è scontato nulla in questa professione anche aprirsi nuovi mercati significa mettersi sempre in gioco e la tensione c'è sempre c'è sempre ancora adesso dopo tanti anni di lavoro per me immagino per un giovane che si affaccia a questo mondo nulla è scontato ecco darsi sempre delle nuove possibilità delle nuove opportunità parliamo in questo caso con te di essere dei cantanti no tu sei una grande cantante e sei una straordinaria mentore vocale e ti chiedo però a questo punto quali sono ad oggi le caratteristiche da cui assolutamente non si può prescindere per diventare grandi cantanti parlo di doti sia fisiche ma anche quelle caratteriali sì allora prima della voce io mi sento di dire la lucidità mentale una centratura una quadratura che la persona deve avere altrimenti non è possibile entrare all'interno di un sistema profondamente complesso e poi mi sento di dire davvero in ogni genere vocale la cultura perché senza cultura tu non puoi rapportarti con nessuno nella maniera più fluida e tutto quello che tu fai per nutrire la mente dal punto di vista della formazione personale della crescita personale lo porti poi sul palcoscenico lo porti quando hai modo di avere delle interviste come in questo caso porti te stesso e quindi questa cosa si deve vedere sul palco anche quando canti beh è un bellissimo messaggio un grande messaggio anche di insegnamento per tutti i giovani artisti cantanti tra l'altro ecco restando ancora alla settimana Sanremese il tuo lavoro impiegato ti ha restituito comunque una grande soddisfazione perché il tuo giovanissimo allievo Rodrigo Lucchini 17 anni ha vinto Sanremo Exclusive Wave TV Music Awards 2023 il prestigioso premio Vittorio De Scalzi come giovane premessa del poppa sì e ho pianto ho pianto perché l'arrangiamento era un arrangiamento su un brano di Fabrizio De Andrè andando in Liguria ho pensato di onorare un grande cantautore Ligure e il brano è un brano un po' particolare perché non è così conosciuto si chiama Inverno io ne avevo sentito per caso una versione che mi è piaciuta moltissimo di Franco Battiato che mi aveva molto commossa il testo è molto denso molto intenso parla della vita e della morte e della relazione con la morte e quindi l'idea di farla portare ad un giovane di 17 anni cercando di trovare una commissione tra la freschezza della sua età e una tematica così profonda mi sembrava un bel messaggio da portare a Sanremo e devo dire che è stato compreso dai critici, dai giornalisti presenti che poi hanno decretato questa vittoria è stato un grande omaggio ricevere questo premio intitolato Vittorio De Scalzi che è rappresentato così tanto per la musica italiana la mattina è stata presente la moglie di Vittorio De Scalzi perché questo premio è autorizzato dalla famiglia e De Scalzi è mancato per il Covid dello scorso anno e quindi è anche un modo per onorare tutta la sua carriera e la sua storia professionale e aveva un legame molto profondo con Sanremo infatti sono stati attribuiti tre premi De Scalzi uno ad un gruppo storico della musica italiana che sono i Cugini di Campagna uno al maestro Melozzi che è un grandissimo direttore d'orchestra che era presente a Sanremo per dirigere Grignani ma ha diretto Imaneschi in tantissimi grandissimi della musica italiana attuale e il premio per la Giovane Promessa è andato a questo fanciullo di 17 anni Rodrigo e quindi è stata una grandissima emozione Beh complimentissimi Elena se sei d'accordo andrei anche un po' oltre Sanremo perché tu sei una delle artiste liriche più apprezzate in tutto il mondo come ricordavo anche in apertura di presentazione hai cantato veramente ovunque qual è l'esperienza e il luogo che maggiormente oggi porti nel cuore? Allora io ti dirò che non c'è un luogo non c'è un'esperienza perché ogni cosa che fai sia nella Kermess più piccola sia nel posto più importante al mondo per te dal punto di vista dell'onestà intellettuale che ci porti e della tua storia professionale quindi di tutto il percorso che hai fatto è la stessa cosa il pubblico va onorato sia che ci siano cinque persone davanti a te sia che ci siano grandissimi palchi, grandissimi pubblici e quindi per me devo dirti anche le cose più semplici che hanno fatto i tasselli anche della mia gavetta sono state importanti ora io eseguirò un concerto il 4 marzo per i Rubini Festival terrò il concerto di inaugurazione e sono emozionata come una bambina come quando ho iniziato e non mi vergogno a dirlo, penso che sia un buon messaggio da dare anche alle generazioni future della lirica ma anche ai fruttori che ci vengono ad ascoltare Siamo parlando di questi tuoi nuovi progetti appunto che diventano protagoniste nell'immediato a maggio sarai infatti con la Rock Orchestra che cosa ti aspetti da questa avventura oltre il fascino e la meraviglia negli occhi lo stupore che comunque abbiamo compreso ti caratterizza tutte le volte, no? hai la possibilità di esibirti Sì, io vivo la vita un po' come una grazia e quindi sempre vivo così vivo così anche il mio modo di insegnare e di vivere il palcoscenico Allora, la Baroc Orchestra è un'orchestra un ensemble giovanissimo per cui ci sono ragazzini nell'orchestra che hanno 10-12 anni fino ai 18-20 anni è la prima volta che io mi seguisco con un'orchestra così giovane e porterò con me anche delle allievi di lirica che sono in formazione devo dire che sono molto contenta di questa esperienza è l'orchestra forse più giovane che c'è in Italia in questo momento e quindi sono veramente molto curiosa di iniziare le prime prove a fine marzo e di conoscere questi ragazzi Sarà una bellissima esperienza magari la potremmo raccontare proprio in tempo reale ma alla fine fra le tante aree liriche che tu conosci quali preferisci cantare? C'è una in particolare che ti appassiona un po' di più e se sì perché? Allora, tutto il periodo... Che senti un po' più tua Sì, sì io ho un periodo proprio di elezione che è il periodo romantico quindi il pieno 800 tutta la musica del pieno 800 e il primo 900 sono un po' vintage in questo però mi sento molto a mio agio anche con le tematiche musicali che sono affrontate in quell'epoca mi piace molto l'atmosfera Sturm und Drang quindi quelle emozioni con pathos molto presente e riesco ad esprimermi molto bene lì riesco proprio ad espandere la parte più animica di me mi piace moltissimo La tua vocalità? Ma c'è qualche area proprio precisa che possiamo dire che magari è coscendo poi ti ascoltiamo ci medesimiamo anche noi ci innamoriamo siamo travolti anche noi da questo Sturm und Drang tutto romantico Allora, io direi all'afflitto è dolce il pianto da Roberto De Vero e di Donizetti perché tocca queste tematiche che per me sono profondissime l'amore, il dolore il senso della vita e quindi mi ci riconosco mi ci riconosco molto Allora, come ultima domanda ti chiedo quali sono i tuoi sogni nel cassetto da realizzare perché veramente vanti una carriera strepitosa possiamo dire che hai raggiunto già la vita una vita altissima ma hai un sogno nel cassetto ancora? Ne ho tantissimi io continuo ad estrarli dal cassetto anzi cioè semino semino per realizzare questi sogni ed è possibile mi piacerebbe avere una direzione artistica mi piacerebbe tantissimo perché potrei esprimermi da un altro punto di vista che ancora non ho affrontato come musicista e quindi mi piacerebbe ricevere un incarico di questo tipo Sicuramente arriverà mi portiamo bene lo sai Elena poi ce lo dirai Grazie Poi incrocio la mia vita perché siamo a Napoli tra l'altro vi devo dire che una collega da Napoli Carmen Spiezzi è stata carinissima e a Sanremo mi ha portato un cornetto porta fortuna d'argento Ti piace? Ti è piaciuto? Ha portato veramente bene Ha portato bene Noi ti aspettiamo a Napoli ecco ti aspetto anche il nostro salotto di Mattina Live è stato un piacere davvero parlare con te grazie grazie di essere intervenuta e in bocca al lupo per tutti i tuoi nuovissimi progetti che ti vedranno protagonista e tanta buona musica complimenti grazie di cuore un abbraccio grazie grazie ad Elena Bresciani cantante lirica di fama internazionale mezzo soprano con noi oggi a Mattina Live un grande abbraccio restate con noi grazie a tutti